Sostenere il progresso scientifico per migliorare l'efficienza energetica e diminuire l'inquinamento atmosferico garantendo ricchezze e benessere alle future generazioni. E' questa la tesi al centro del libro dell'ex presidente di Lega Ambiente di Enel, Chico Testa, intitolato Elogio di una crescita felice contro l'integralismo ecologico, presentato a Firenze dall'autore insieme al presidente della regione toscana Eugenio Gianni e al vice direttore del Corriere della Sera Antonio Polito che ha moderato l'incontro. Il messaggio che ho voluto lanciare è che difendere l'ambiente significa sviluppare l'innovazione tecnologica. Noi abbiamo bisogno di fare di più, perché nel mondo ci sono ancora tante persone che hanno bisogno di crescere anche economicamente, utilizzando meno risorse ambientali e inquinando di meno il pianeta. La soluzione sta nel miglioramento tecnologico che migliorano l'efficienza complessiva di queste risorse. Il presidente Gianni ha dichiarato di condividere uno sviluppo sostenibile basato non sul mantenimento dello stato di natura, ma su una intelligente capacità dell'uomo di costruire un progresso compatibile con l'ambiente. Significa vivere una logica di crescita con il rispetto dell'ambiente, ma contemporaneamente con una visione della transizione ecologica che comunque accresca il livello di benessere, di civiltà, di ciò che la tecnologia può aiutare a farci vivere in un mondo che ci metta a riparo come umanità da quello che sono tutto ciò che in balia semplicemente della natura ti porterebbe a vedere fermare quello che è lo sviluppo. Grazie.